si 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 l'ho usato l'ho usato lo usato noi stiamo arrivando aspettate un attimo che vanno via perché qua adesso c'è l'elicottero che sta girando sopra ragazzi ok ragazzi 3 al mio via si va in scena state pronti che parte la live 3 2 1 oh eccoci qua buonasera buonasera a tutti ben ritrovati siamo tutti qui riuniti allora signori ben ritrovati e dopo che non ci vediamo su questo canale perché sono un po in stand by accendo un po la luce però così ok chi c'è qua questo perché c'è rientro perché c'è rientro perfetto ok siamo qui questa sera in operazione super speciale con due gruppi di attacco ok io mi tanto tolgo la mia facciona due gruppi di attacco che svolgeranno due fasi diverse di un'operazione sul mio canale e sul canale di spectre trovate la nostra fase dell'operazione invece sul canale di old snake trovate la parte dell'operazione del team alpha ok noi siamo il team bravo non vi spiego cosa stiamo a fare lo vedrete ci divertiremo noi intanto abbiamo creato una fob in questa base e adesso aspettiamo che il resto della l'incursore sono qui da solo in attesa che la mia squadra mi raggiunga il mio collega incursore è già stato raggiunto dalla squadra alpha ok quindi noi ci siamo splittati e andremo a far parte di due team separati e grande spectre che intanto ecco se volete andare a vedere anche la sua live la trovate nei miei commenti ok perfetto la squadra alpha si è spostata prima perché è andata a disattivare delle torrette contraere che si trovano nella zona per permettere arrestante ai restanti della squadra bravo di potermi raggiungere in questa fob a bordo a bordo a bordo No Questo è il disconnesso, un attimo che torna Grazie. Ok, tempo nasivo stimato, tre primi. Attenzione perché se dovrebbe essere disabilita la contraerea, però siccome quando si è disconnesso, se vedete un missile che parte, lanciatevi subito. Ok, ricevuto. Ricevuto. Ordine d'ingaggio. Ah, dobbiamo assaltare le posizioni, quindi appena abbiamo l'incursore. C'è questo. Quella non ce l'avevo via, quella era qua, lasciata a casa. Eh, in teoria è dall'altra parte della montagna dobbiamo andare noi. Ah, più a sinistra. In quel... Diciamo, dove c'è quel fiume lì sotto di noi. Più davanti. Dobbiamo scendere lì. Adesso scendi... Giù. E' lì che si trova il nostro incursore. Proprio dove c'è il fiume, vicino al fiume. Fiume, dove c'è quella specie di fiumiciatro che va a fare il laghi. E' l'influente. Ecco, vediamo, c'è stato abbandonato, Dresh. L'abbiamo in vista. Attenzione. La terra. Terra, copertura sud-ovest. Suggirei di entrare nell'edificio. Sento voci. Battuglia su test. Aspettiamo Fabio nell'edificio, qui, dentro. Sì. Ritirate nell'edificio, ritirate nell'edificio, ok? Ok. Proprio. 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 Ultimo. Ok. Proprio. Qui. Proprio. Sì, sì, è qui, stai entrando. Io sono sotto, piano terra, copertura porta. Siamo procedendo alla torre, ma ho problemi con le cedere. Quindi siamo dentro la struttura. Blu, 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 blu. Sì. Con voglio sulla strada. Io scelgo già. Tieni lì d'occhio. Passano oltre. Devi reguagliarci sulla missione. Davanti a te. Io sono al piano terra, copertura porta. Sì, vai. Sì, sì. Sì, sì. Assolutamente dobbiamo passare. Adesso, sotto. Adesso. Adesso. Adesso è la patria giusta. stand by stand by stand by un attimo un attimo comunicazioni ripetere comunicazione passo ok squadra in movimento allora dobbiamo andare dobbiamo dividerci quindi ok ricevuto io mi seguo quindi noi passeremo di qua per la strada si possiamo tagliare adesso noi passiamo tutti da lì per comunicare noi sario l'incursore saremo squadra bravo 1 voi sarete bravo 2 quando ci ricongiungiamo siamo squadra bravo e basta ricevuto ci sono informazioni su questo tavolo inviato come il personal direttivo ricevuto siamo pronti comunicazione inviata direttore allora finché non ci splittiamo minimi stava avanti e minimi stava avanti seguo il salvatore io chiudo la fila ok quindi qui andiamo dall'altra parte attenzione pattuglia a te direzione est tagliamo per i punti o tagliamo direttamente per l'acqua cioè cerchiamo la strada e passiamo solo i punti o possiamo passare direttamente sono solo quei due sono tre sono tre molto bene ne vedo due un trattorso macchina dalla ok adesso li vedo ricongiunti dai Honestly rosso da una serrata piatta dalla parte di costa avanti 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 secondo movi soluniversik secondo fu defensive rallupi di giud kite як Giù 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 e c'è anche la fatuglia che stà arrivando Allora, un secondo Ok, correte al di qua della strada Veloci però Veloci che si arrivano alla battuglia Fate uno scatto Perfetto Ultimo Andiamo su, non è che c'è tanto da andare su Ok Sento che arrivano le macchie Ok, pattuglia, avvicinamento Direzione ovest Distanza 120 metri e ume e diminui Ilicottero In mezzo agli alberi, basta che vi stendete Ne vedo sempre due Un fermo Sto fermato adesso uno Va bene, va bene, va bene Noi muoviamoci, non stiamo qui fermi Battuglia nord-ovest Però è dall'altra parte Non interessa Manteniamo le formazioni, eh Eh, nemici davanti a me A nord-ovest Stanno controllando la strada Sono due Però c'è la pattuglia a sinistra anche Due abbattono Machina Machina giù Dietro i sassi Possiamo fare due abbattono appena ce ne va via il veicolo Due abbattono quelli sulla postazione E due abbattono quelli che sono in movimento sulla strada Io ho quell'impostazione C'ho i tiri puliti Ok Possiamo mettere il termico Io ho quelli sulla strada Allora Carlo Ascolta un attimo il tuo coppio È sulla strada Tu sei con lui? Confermo Bene Allora Coordinatevi Quando siete pronti Noi facciamo fuori i nostri Io ho quello di fronte Tu hai quello di spalle F Ok Carlo Parti da Non ho copiato Cosa dobbiamo fare? Io te Dani? Ucciderei la pattuglia sulla strada Sono tre lì Tu parti dall'ultimo Io parto dal primo Dal primo in testa tu dici? Sì Tu parti dall'ultimo in coda Aspetta che passi in un altro Non ho una posizione pulita Posso spostarmi? Vai Ce l'hai? Sì Fuoco Presi Muovetevi Muovetevi adesso E c'è un attimo di Venite in direzione nord-est Residiate il punto Ok Ci sono informazioni Qui ne uno Così esco Eh no Sei troppo esposto Adesso andiamoci Verso Lo bis Sotto Resu Adesso verso L'ultimo Adesso Minimista Minimista Compro di Detro No Devi star davanti Ok Devi star Non coprire Di star davanti Aiuta il minimista Se vedi che non vanno giù Attendi Un secondo Che metto Il termico Perché Io intanto mino la strada Ok messo Riparto Ci siede? Sì io sono alla tua destra Elicottero Elicottero A terra Ok Ok Vi arriva Macchina Macchina giù Che culo Fai fuoco Fai fuoco E' andato a terra 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 Il rollo Eh scusate A me è comparsa Da nulla Ok Ma ne Io appena l'ho vista Ho dato comunicazione Nel dubbio Siccome non possiamo Metterci a terra Siamo su una strada Ingaggiate Sparata l'autista C'è c'è quello Con la ral C'è il minimista apposta Fate fuoco E' ho sparato Prima quello sulla ralla Adesso che mi ha dato L'ordine Sparò a vista Ok C'è se c'è un ingaggio Immediato Che c'è uno stile Che ti viene in faccia Stiamo in una strada In salita Per di più Va bene Poi ok Io non mi permetto Senza ordine No Se d'assaltatori E senza silenziatore Quindi L'assalto qui È contemplato Fermati i campi Fermati Vedo la luce là Eccoli Sono due Non vedo Si vede Se qualcuno Io ho Ho il Ok io ho quella a destra Io ho quella a sinistra Anch'io ho quella a sinistra Altro via Altro via 3 2 1 Via Sto giocando Sto giocando a usare la pistola Sto giocando a usare la pistola Per ottenere le munizioni Per dopo Ok Attendi Black Black dove sei tu All'incrocio Metto una mina Ok Ok Non continuare la black Non continuare la black Sì A vero che sono tanto esposti Nella scena Ok Saliamo su allora Almeno non stiamo sulla strada Però Non mi vedo più Sopra Sopra la collina Abbiamo Abbiamo Sì Vedo luci Dove? No niente Ha girato Ok Quindi voi adesso Si ce l'ha avuto Voi siete bravo Bravo 2 Noi siamo bravo 1 Comunicate Ok Cliccate di tenere un basso Un basso profilo Finchè non arrivate al punto Disegnato Poi iniziate Iniziate a ballare Insomma Black Scorpio Andiamo a ca Ok Davini di merda Quanto casino fate Eh vabbè Sono in montagna Prendiamo la torre Porca miseria Aspetta un attimino Che guardiamo un po' La situa come a me Dove scendere Perché altri Una raga La sotto La sto facendo anch'io Al limite La facciamo Fai un copia e incolla Di quello che Hai streamato Scendi Accuciato Siamo distanziati o attaccati Stella mia sinistra Autosinistra Una mina è saltata Corrosione È una mina Che ho messo io Un attimo Ok Quindi c'è una torre Stand by Tutta la maglia In ascolto Qui bravo in ascolto La squadra Ha preso La torre Mi siete Libri anche Da possibili rinforzi Continua le comunicazioni Con i raggi Ricevuto Ci prepariamo Ad ingaggiare Chiudo Bene Mezza Mezza altezza Dietro di te Lanciarazzi Mettilo via Non io C'è un lanciarazzi Che sto pattugliando Ah Dove La torretta Direzione Est Albino Est A 160 metri Ok Sulla torre Invece Non c'è nessuno Nella torretta Non sembra Cioè io ci sto guardando Dietro Sto guardando Colbino C'è uno che battuglia La strada Fuciliere Ok Sono alla porta Vedo Sto scendendo Ok Allora C'è un convoglio Stai giù Lasciamo postare Il convoglio Convoglio Dice che poi Entranno Aspettiamo Aprire Le danze Perché Ci troveremo Ok Pronti Dove è la base? Eccola qui Hai visto quello che ho visto io Ok Sì Ok Ho visto Non lo dire Ho visto Ok Io però Da qui Non ho visuale Da qui Scendiamo Tempranato a sinistra Sto Adesso stai dietro Di me Distanziato Allora Occhio Alla intera Deci sta guardando Mi sa Quindi Traiti Allora Amici Vedervi Solo Il fuciliente Ero il lanciarazzi Però Non ne sono sicuro Ci sono solo due persone Comunque Tu fai fuori Quello Il lanciarazzi E faccio fuori Quello che cammina Ok Ma perché? Quando c'è il lanciarazzi Ha sparato per sbaglio Secondo Prendo una posizione Di Vantaggio Facciamo 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 E' partito Io ci sono Ok Spara Quando Aspetta Aspetta Va bene Non voglio Non voglio Machina a sud est E' nascosto No no Machina solo Fai fuoco Preso Sai che non lo vedo? Ok Io scendo e vado alla cazupola Appena arrivo mi segui Visto Ok Vieni ti copro io Arrivo Arrivo Ok Scendere più in basso Aspetta Ricarica Aspetta Basso di Questo scendere più in sotto Nasconditi Non lo sento qua con te Ricarico Aspetta Scendere più in sotto Scendere più in sotto Machina Stai dentro Dov'è? Dovevo uscire? Vuoi che tornesco col portone dalla strada? Si ora esci e mettiti qua dove sono io e mi copri da qua Allora Arrivo Machina Anzi Convoglio Vieni vieni Corri 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 Vieni dietro l'edificio Vieni dietro l'edificio Puttana Bravo 2 Calma 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 black Sono ancora qua Bravo 1 Questo è un punto checkpoint per i convogli Drone 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 Eh sono a terra Usa un mp Eh Ok vieni qua Ma i drone non dovevano esserci Non avevano stati considerati Black ho informazioni acquisisco Acquisisci io ti copro Noi abbiamo appena ripulito il checkpoint Bravo Stiamo controllando l'ultimo edificio per mettere in sequenza la zona Vieni qua Vieni qua Punta Ok io ho il cecchino di prima Sinistra libero chiuso Sinistra libero Entra guarda sinistra Entra guarda destra Porta Ok libero Sinistra non riesco a darti profondità Ok libero Accogli munizioni se ci sono munizioni Accogli munizioni se ci sono munizioni Eh non lo so Però abbiamo liberato Che così possiamo andarsene via Battuglia da tre Sotto dove era il cecchino Ok Noi abbiamo liberato il checkpoint Aspettiamo Aspettiamo ordini da voi Come va da voi Cecchino eliminato Allora potete iniziare a muovervi verso il punto che vi indico Non passate per la strada Ok Sulla mappa Ricevuto Allora sto cercando Per farti infiltrare Il lanciarazzi Andare con una macchina No 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 Non ho fatto troppo rumore Arrivo Attendi Attendi Black Ok Sto guardando la mappa C'è il generatore Dobbiamo andare di là Dobbiamo fare un giro Fai una corsetta Eccolo Visto Giusto Dobbiamo andare sciuti qua Per non passare sulla strada Se non ci troveremo i vicoli addosso Sì Ok l'abbiamo recuperata Per un attimo l'ho vista L'ho vista Vista grigia Ok Quello dovrebbe essere sicuro Quindi spostiamoci A passo normale Tanto ho anche alzato Occhio sempre agli elicotteri Se passano Questa è una stradina Ho la pistola Pronto a Ti sto per dire Tu stai alla destra Io sto a sinistra Ok 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 riunisciti Sì Bravo 1 Bravo 2 È arrivato Il checkpoint Ok Ok ricevuto Vi vedo Col trasponder Pancia a terra Restate Nascosti 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 A sud Quello Quello Ma da qua non lo vedo aspetto Un secondo Ci sono Ci sono Vedo luci Quindi abbiamo persone Dobbiamo cominciare Per fortale Altrimenti ci arrivano da dietro Lo stavo Lo stavo cercando Adesso se lo Can seguimi C'è stato C'è stato C'è stato C'è stato C'è stato Vedi quell'edificio lì? Quello davanti Col complesso C'è Dobbiamo bonificare Prima quello Altrimenti ci arrivano da dietro Mentre saliamo Ok Il problema è che Sicuramente Sparando lì Li artiamo anche lì No ma adesso Il diversivo Aspetta un attimo Adesso il diversivo Lo crea Lo crea Sì sì Noi aspettiamo Prima il diversivo Prima di sparare Stiamo cercando Ci mettiamo Ci mettiamo Solo in posizione Noi Di qua Eh di qua No si può scendere Qua Se qua scendiamo Ci facciamo Malo No Qua no C'è la discesa C'è la discesa Qua? Eh Vieni su Vieni su Scendiamo Dall'altro Lato è meglio Ah Ok Scendiamo Di pagare Meglio Eh Un secondo Vedo Vedo due Fuciliere Un fuciliere Un incursore Aspetta Sono tre Questi Incursore Fuciliere E fuciliere Fuciliere Vedo Vedo molti Sottori semplici Batteria Contraere Operatore Radio Sotto L'elicottero Sì 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 Però Anche L'operatore Anche L'operatore Radio Però Non è Sotto L'elicottero Sotto Dove c'è L'elicottero Qui Proprio qua C'è proprio in centro C'è proprio in centro C'è nessuno di due L'elicottero Fuciliere Fuciliere Tu Can hai visto L'operatore De Lone? No Non sto cercando Potrebbe essere dentro il bunker Questo è un problema Vediamo poche Poche cose Poche persone C'è un cecchino Dove? Qua sotto All'inizio Nel primo bunker Alla nostra destra Quindi sotto di voi Da un comandante Verso suddestra C'è un cecchino All'in cerca Qui Su questo complesso Qui Togli sto Qua Guarda Un attimo E' più che un Si è un bunker Anche quello Ma non lo vedi Sta un po' più avanti Del segnalino Dove l'ho messo io E' sopra il tetto E' appena morto E' appena morto Eliminato E' appena morto Perché qualcuno l'ha ucciso Bel colpo E' meno Non abbiamo il cecchino Però Mi spiace Dell'operatore L'operatore 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 Ho visto Un comandante Il comandante Sul bunker Di sinistra Serve Qualcosa Uccide tranquillamente Allora F Ho trovato L'operatore Vedo le gambe Dell'operatore Radio Dove? Le gambe Vedo Sotto l'elicottero Però Sputtano la posizione L'operatore Droni Non è Non è In visuale Allora Aspetta Che torno In posizione Sono fuori posizione Ok Can Noi intanto Scendiamo E Almeno Non abbiamo Il cecchino Grazie Spectre Per il cecchino Non scenderò Non scenderò Del tutto Non scenderò Del tutto Ok Sono sul puntile Quindi Tu sai Dove devi andare La traiettoria Che devi fare Il lanciatore Ranciarazzi Te l'ho tolto Il tetto Dove dovresti Atterrare È sgombro Almeno Da qui È sgombro Ma cerca Di fare Una bella parabola E Giungi Lì Al Al Generatore Ah Dietro Le prigioni Ci sono Qui Squadra Brava Squadra Alfa L'incursore È in volo Ha lasciato Un nido Si dirige Verso Il generatore Squadra Bravo Pronta All'assalto Fabio Ho trovato L'operatore Droni Se Metti il C4 Poi Aspetta Che elimino Il tizio Hai una squadra Una pattuglia Di tre Davanti a te Che va Verso L'interno Della base Al momento Sei libero Canto Canto E' visuale Su quello Che parla Dentro Al complesso Dentro Il buco Ce ne ho Devo Fuciliere E ce ne ho Per metà corpo Ok Per metà corpo Anche io qua Non vedo nessuno No ho scappato Ho sentito qualcuno Ora un rilevamento visivo Non lo so Non hanno visto noi Perché non ci stanno sparando Perché non hanno visto noi Io busso la gialla Non vi preoccupate Non lo dire Non lo dire Anche le colpe di spedre Metti l'arma Metti l'arma Io binocolo Noi siamo pronti Sono pronti Pronto Attività nemica Nella zona Attenzione Fate attenzione Andiamo Operatura radio Eliminato Aspetta Black Aspetta Black Eh Corri Non stare accucciato Corri E' mezzo Arrivare Vai Vieni Io vado a destra E tu vai dentro a sinistra Ok Entra Ho entrato Un altro drone Un altro drone in arrivo Usa il Perfetto Uccidilo Perfetto Perfetto Vieni Perfetto Perfetto L'acqua Comunizioni Ci sono No Sei andato Trappi là Sono sulla strada Sono sulla strada Dovete fare fuoco Sulla strada Sulla strada Non co te Sei a due che corre Vabbè sei a due che corri Centromappa Ok Ok vieni su Vieni su Hai compagnia Comandante Eliminato Assaltatore Eliminato Incursore Eliminato Incursore Eliminato Ragazzi Entrate Supportate Siete troppo distanti Eh stiamo andando Ok ok Noi dovevamo entrare dall'inizio Dall'entrata Ok ok Si spara? Spara Tu appena vedi qualcuno Spara Controllate Siete voi che correte Sulla montagna? Sulla torre? Sì Siamo noi che stiamo scendendo Siamo andando verso Fabio Sì a 49 metri su test obbiettivo del gita che ripetete l'obiettivo qual'è l'obiettivo ripetete le informazioni l'anzimuth qual'è l'obiettivo l'obiettivo del gita che ripetete l'obiettivo qual'è edificio davanti a noi a 49 metri sud est l'entrata un altro qua jetac lanciato comandante ok dentro dentro son dentro lanciate granate e entrate dalla mia posizione non ho visuale su nessuno stile sempre lì sono sempre lì granata siamo davanti all'entrata del magazzino dove è stata lanciata il gita attraversiamo la strada si tu stai a sinistra e sto a destra ricevuto aspettiamo l'arrivo di fabio ok sentiamo tu guarda a sinistra e a destra mi hanno sparato granata via l'amico in arrivo l'amico in arrivo carl metti all'entrata del magazzino dove siamo entrati si e guarda un po' in giro guarda un po' in giro io ho bussola arancio ok ti vedo can raggiungimi riconosce a me e andiamo verso fabio però noi stiamo a destra di qua vicino alla strada voi avete la bussola bianca? no siate nello stesso posto come fate? ok chi è in centro mappa? si vedo 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 due operatori e centro mappa siamo noi siamo noi vedo anche te si qui c'è un un civile dimmelo eh no aspetta non riesco a vedere dove sono siamo a sud della tua posizione no no ho la tua ce l'ho non è capito dove sono aspettate lancio lancio razzo ok minaccia eliminata? ehm io sono più non siamo più io sono bianco allora situazione 990 scendo scendo anch'io ehm fabio non c'era detto di civili però lì dentro c'è un civile sono le pelle mi è arrivato anche il vovo avrucci eccomi allora comunico che abbiamo liberato il sito contraereo ricarico bravo la squadra alfa il sito contraereo è stato liberato cerchiamo informazioni interrogativo sui sugli ostaggi cosa facciamo? passo ok allora prima le informazioni poi ribeviamo gli ostaggi ok ok allora muoviamoci a cuneo sempre la minimi davanti un cuneo ragazzi ce l'avete però io sono anche il medico da quando? da sempre ha detto muorimi allora assaltatore 2 vai avanti e pensavo lo sapessi no eh infatti eh infatti io pensavo che l'assaltatore basta eh no me l'ha detto l'ha descritto muorimi serve anche a te vabbè metti metti serve anche a te metti sì 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 allora cuneo assaltatore 2 avanti sinistra e destra ci siamo io e fabio leggermente arretrato dietro di fabio c'è black direzione tutti iniziamo da da sono io e vai verso il delta ok cuneo eh quindi laterali e a destra leggermente perché se è medico funziona da questo bunker ma sono medico ma sono anche tutto vorrei di stamano può essere piuma può essere fero ti seguo eh black vai sotto ok vai sotto blu 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 ragazzi ho fatto una fatica a fare il cerchino che voi non avete idea ma qua è libero non è... non è il mio ruolo sottolivare c'è una voce voce sento voci senti voci sì sì ho sentito parlare potrebbero essere civili ma non sono sicuro dalla voce come parlava no questo non è un civile viene da nord ovest mi pare conferma un fuciliere era appena detto che ha fatto mettere questo generatore ce l'ho di fronte ma dov'è? ingaggio se è stato e non abbiamo controllato là sopra nord ovest qui non c'è niente c'era un mini bunker vedo che c'era rimasto un tizio eccomi pronti io sono alla tua destra in alto a sinistra e dietro ok albeggia buona cosa si giova quando? black tieni la copertura qui la.. il muretto di cemento In posizione Sto rastreando il primo bunker alla mia posizione Allora ho informazioni su un tipo di drone su schermo video Auto recuperate, tolgo passamontagna e visore e rimetto il mio cappello Bunker libero Bunker libero Vieni Black Eccomi Sinistra, sinistra Carlo Stai superando l'aprifila Andiamo a Cune Ok, varia La torretta Disattivata L'ho lanciato prima un Un razzo Sì ma a volte te la segna sempre attiva Bisogna farlo esplodere per forza Ok Eventualmente Se serve Se serve Tolgo il razzo Ma metto un po' di C4 Metto del C4 qui su questa torretta Non si sa mai Sì Mi dice nulla Qui c'è del Della benzina Con una Una raggio da campo Metto il C4 qui No, no, io non riesco a venire a vedere tu tante volte con la grafica visuale in quattro Sto andando a visitare altro Stand by, stand by, stand by Stiamo bonificando i bunker e finiamo di raccogliere le informazioni Io, 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 io Vedi qualcosa? Ok, passiamo al prossimo che c'è... Ci sono gli altri che aspettano Allora Delta l'abbiamo già controllato In velocità però l'abbiamo controllato, non c'era niente Che abbiamo ucciso i nemici dentro Ok Ok Di dove c'è l'antenna? Guarda, lì c'è un'antenna parabola Qui abbiamo trovato uno schermo con degli appunti e degli schemi per un drone Ok, allora sono gli stessi che ho trovato Beh, allora qui c'è già un po' più di roba Guarda, ci sono dei documenti con scritto confidenziali qui Guarda Mi sa che abbiamo fatto bingo Qui sulla scrivania Altri documenti confidenziali qui Beh, noi andiamo a controllare Delta anche perché Sopra ci siamo andati Eccan Dimmi Scusa Sopra questo Questo bunker ci siamo andati noi, non mi ricordo No Io no Avevamo solo visto che dentro ci siamo un po' di riega Abbiamo seccato e basta Andiamo a controllare sopra Andiamo a controllare sopra Ci siamo informazioni E... Allora Parabola E... Torretta minata Mazzara E scorta di cibo che non ci sono qua Lì dove avete lanciato il JTA che avete a posto? Sì, non c'era niente C'era solo scorta di cibo Ok, allora Vado nelle prigioni Era proprio un magazzino per i rifornimenti Noi intanto andiamo all'elicottero, can Allora E abbiamo liberato gli ostaggi Quale? Ci siamo entrati dentro Fabio Ci siamo entrati prima il magazzino quello delle scorte Ah, quello più avanti ancora Ok Ok E qui dove sono io? No Facciamo una corsetta, no? Magazzino E qui c'è stato il meccanico Allora io i mezzi li elimino, li faccio saltare E qui c'è stato il meccanico La portiamola a casa Si Ce l'abbiamo E infatti non lo fai tu Ho visto che Basta chiedere Ce l'abbiamo quella macchina lì? In questo magazzino c'è il... C'è il meccanico Ci sono le piattaforme per mettere a posto i carri Le auto e il resto E il meccanico insomma Riesci a mandarle via il meccanico? Eh? Liesci? A mandarlo via il meccanico? No non c'è nessun meccanico C'è... Non mi viene la parola Il garage C'è un'officina Ecco non mi veniva la parola Officine E però quel ribelle che abbiamo liberato che va in giro vicino al veicolo eh Occhio Vieni via Vieni via Vieni via Me l'ha visto qua dentro Si E' in buco la macchina No ma sono qua sopra Fai una corsetta Che sbattone Corri Ma che dovrebbe averci il C4 quella macchina Non ci credo però Bravo Però mai Io penso Penso di sì Perché lui ha messo lì con gli amici Quali So Eh Perché mi hai salito lì? Eh Non... Devo aspettare che sali tu Sarà mia metà guida Allora No Ti metti sui lati? Non me lo fa Allora Pronti Far brillare gli esplosivi Sì Sì Intanto il mio personaggio si controlla Siamo al fucile Pronti all'esplosione 3 2 1 1 Caboom baby Sì io sono stato seduto che sono stanco Ok Destinazione Paradiso città Allora Squadra Bravo Sta Lasciando La base contraerea Bonificata e liberata Armamenti distrutti Ehm 100 voci Sambutaggio delle strutture E abbiamo anche Raccolto informazioni Torniamo a South Cape Ti avevo detto che c'era il C4 in quella macchina E' esplosa? Sì Mi ha salvato la vita dai Prego Non siamo ancora Non siamo ancora salvi eh Come no? No no Ah Questo è l'esplosione O che davvero è l'esplosione? Grazie a tutti. eh l'altra volta ho messo la tramite link e mi sono dimenticato di mettere il follow infatti non ti trovavo più ma chi è questo black scorpion ma so io pandoro siamo in volo tattico ripeto sono in volo tattico 3 prime all'obiettivo ricordi che sono ancora al medico, so io che ti dovrei tirare su canna non è che mi piace tanto passare tra le ribe se avevano anche le barche eravano messe proprio male se avevano anche le barche eravano messe proprio male però c'è da dire che è anche logico se no le barche verrebbero affondate dai loro droni quindi si è di posizione ok qui penso siamo sicuro siamo nella baia adesso ci vuole una barra dormita in sta baia casa che ci hanno trovati siamo noi cretino 3 2 1 1 attendo siamo al sicuro comunichiamo al team alfa che siamo in fob team bravo team bravo da team alfa squadra tornata in fob nessun operatore deceduto nessun operatore ferito siamo tutti sani e salvi bene questo è il momento questo è il momento delle foto di riso perché ce l'abbiamo fatta eh sì 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 quel drone lì e quell'elicottero lì perché tu non hai visto noi che ci siamo ritrovati i due convogli che ci sono ascolti con me dei cani no ma allora vi spiego vi spiego perché siamo un attimo stati incasinati e fabbi allora io ero un puntamento e c'era l'artigliere ero stavo soltanto mirando siccome stavo cercando di poggiare il joystick da qualche parte in maniera comoda involontariamente è partito un colpo però ormai visto che è partito il primo colpo continuo a spararli solo che vabbè l'ho preso più più volte in testa voi lo vedete anche in live è saltato anche il caschetto ma questo continuava a stare in piedi a stare in piedi quindi ho preso ho caricato guarda guarda Fabio ho fatto così guarda eh ho messo i brigatti di perforanti e e e e l'ho finito quella sì quella sì adesso li togliamo ok 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 Per fortuna noi no, l'unico più che altro problema è stato quello lì dei convogli che venivano lì per girarsi, cioè non è che continuavano, venivano lì solo per girarsi e tornare indietro, quindi sì, quindi era un problema muy grosso, perché ci siamo ritrovati che eravamo giù, avevamo ucciso tutti e mo' c'è l'altro il convoglio. Le foto le mando su Blackbox. Siamo andati, ci siamo messi dietro l'edificio per cercare di non farsi vedere, per fortuna non ci hanno visto. Come cazzo c'è? No, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ehm, non so. No, non c'è l'ho. No, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. No, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. No, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. N biscosa, no ci parce quelle, non c'è l'ho, non c'è l'ho. ciao ciao mirko devo smutarli tutti aspetto no io non ho scendito cosa ha detto non ho scendito aspetta che te li sto vicino di connessione no sì perché avevamo avuto delle informazioni diciamo che non erano come si dice aggiornate ecco aggiornate quindi ci siamo trovati con dei personaggi che non erano previsti dalla ricondizione però abbiamo comunque reagito agli ingaggi anche quelli non non previsti abbiamo sempre tenuto la strada in sicurezza ha minato la via d'entrata la via d'uscita una volta poi presa posizione presa posizione sul punto sul punto elevato dal momento che i ragazzi hanno ingaggiato la base il checkpoint ho iniziato a sfoltire un po il gregge diciamo fabio da quando si è lanciato non ha avuto problemi di coperture o di o di altro chiesto chiesto hai fatto falcecchino diciamo che non è ruolo che mi fa impazzire però vabbè dai te lo sapranno dire i ragazzi se me la son cavata io non dico niente ci abbiamo avuto un attimino di panico io e e can perchè il punto checkpoint che c'è detto di liberare è un punto checkpoint anche per i tocca troppo come si chiamano i convogli ci siamo ritrovati un convogli o un convogli di filo ogni due secondi che si faceva la manovra per girarsene via via allora eravamo là che abbiamo ucciso i nemici e ci siamo nascosti abbiamo finito di controllare e poi ci siamo nascosti perchè continuarono arrivare con voi eh abbiamo stato un po culo se vabbè se quelle ci vedevano ci ammazzavano io ho potuto sparare quanto volevo ma ma a forza perchè era più lunga la base nostra perchè noi ci abbiamo messo tanto arrivare da fabio perchè c'era il bunker sotto c'era il bunker sotto che c'ha che dice sparate e stiamo sparando ma c'è dobbiamo farci 30 km per arrivare da fabio aspetta c'era il bunker